Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! C'era un anno che un napolo spingeva pesante Non mi ricordo quale anno, questo programma è sbaglio Ui, ma la fammucca a chi è morta, hai capito o no? Ma posso sbagliare o no? Un'ultima fettina, un'ultima fettina a cazzo Ma io raffangulo voglio carci, che è sta verica, oi? Forza napoli, la fammucca a chi è morta, che è sta verica? Ecco qua Andate a salvare le specie protette, il perfumore, fatelo, già, fatelo Grazie Hola Gix, grazie V3 Una valetta della vita Due volte È doppio No, scusami, non lasciavo, noio Ma che cazzo è su Cilio? Stai con una penna morta, era aperto, tu hai cliccato e io ci ho lanciato un razzo Ne capite? Eh, ma che c'è la famo? Eh, non mi sento io a Gettichai, c'è un'altra torcia Oh, non usate Sì, io solo lo faccio Porco Dio Porca Madonna Ma che cazzo faccio io, porca Gesù Cristo Ma io raffangulo a chi è morta, vuoi anche la putta la mamma posta Ma che c'è cazzo Ok, guarda L'ho fatto C'è Ma porco Dio Io mi dio cane Ma vai giù Mannaggia la maronna Ma che c'è va a fare lo cazzo di comando Vuol dire che mi piglio per culo Mi stai a pigliare per culo Mannaggia la maronna Gesù Cristo Mi stai a pigliare per culo Eh, ma fatto Questo è che lato Sto ancora mezz'ora a cercare lo comando Eh, lo so eh Allora Ci puoi fare con qualsiasi legno, vai giù Almeno No, sono pure l'una e mezzo Gesù Cristo Ci puoi fare con la cazzo Orca Moda Orca Moda Scua Ohia Orca Dio Orca Moda Ouh Mannaggia la miseria Ma in che senso ti stai chiamando Gribbaud? Porco Dio Ma faccio sta què o no? RANGO Latte, caramello, mandorla La galletta Che è la versione alla... Tanti ho trovato anche Slippler's Night Non so cos'è Ma è ora riempirei tutto l'inventaggio NOOOOO Io maronna mia Ma che palle Non capita Ma sei capito Scio gazz No, non è possibile Dotto livelli Lascio la roba all'anno No, che lascio? Lascio la roba all'anno, vengo No, vieni Nooo No, vai giù Nooo Dio cane C'è un metodo per superare questa delusione No, non è possibile No, non è possibile No, non è possibile Bello Sì, sì Mamma mia Ma non è possibile Ehm... Ehm... AHHHHH 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 eh no 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 e questo è tutto tutto sti botto chiss si ma io voglio capire questo che l'ha fatto che l'importante baby calma ma come ti ho precipitato ma come ti ho precipitato Alex manda qualunque nicole si butta bisogna sempre cercare di ridurre ma lo sognito si vede un tè caldo no lo so eh no sotto la doccia sotto la doccia sotto la doccia è caldo no si lo dicevo sempre Gesù Cristo che cazzo è successo no è parto di uno suono ah pensavo che i cuffie saranno un beccicato antico quindi io ho capito io ho potuto che sto trazzato questi sono forti inizia a prendere la che mi serve dianto guarda se tu sei là in fondo c'è una scala vai corri corri si è fermato si è fermato c'è una scala no ma questo è scevo ma questo è stupido ma è scevo cosa ha fatto ma cazzo madonna ecco un'altra modifica che abbiamo chiesto è chiudere con delle porte qui ecco ultima idea perché quando ci sono le feste è che cazzo Grazie a tutti I razzi? No vabbè No ma chi ne è come sport?